Ciao, sono Grata Brunelli, una giocatrice del Basket Project Faenza e sono qui anch'io che aderisco a questa bellissima iniziativa per sensibilizzare tutti noi nel rispettare alcune semplici norme. In che modo ve lo faccio? Vi chiedo di scendere in campo con me per giocare la partita più importante di questo campionato, ovvero cercare di tornare a una vita normale che tutti noi conosciamo. Occorrono fare dei sacrifici, quindi tutto ciò che c'è concesso e permesso e possiamo fare, facciamolo, avvaliamoci spesso le mani, proviamo a mantenere le distanze, gli abbracci torneranno ma purtroppo adesso le dobbiamo fare a meno, non facciamo feste, festini e proviamo a vincere questa benedetta battaglia. Mi raccomando, tutto dipende solo da noi.